Fermati un attimo e ascolta. La guerra ha fatto questo, sono senza mani, senza braccia, senza gambe, senza occhi. Round Us ha circa quattro scuole complete. Ed è un esempio meraviglioso di come effettivamente un aiuto può diventare importante per una popolazione. Quelli che vengono colpiti maggiormente e che si sentono più soli sono i bambini. Nel campo profughi di Waterloo dove sono 130 i bambini orfani. Vedere questi bambini che al tempo di Egola piangevano, non uscivano di casa perché dentro c'erano i genitori morti. La sanità lì è a pagamento e c'è veramente bisogno di dare una mano altrimenti tanti morirebbero. Questi medici che vengono giù per me sono una cosa indescrivibile perché danno tanta tanta speranza e riescono anche a risolvere tanti tanti casi che altrimenti morirebbero. Quando andiamo nei villaggi e portiamo qualcosa ci dicono che il Signore ti benedica, che il Signore ti benedica. Ma tutti, tutti che il Signore ti benedica. E noi diciamo, beh, noi vi ringraziamo delle benedizioni che poi mandiamo ai benefattori perché certamente il Signore benedirà anche i benefattori che hanno reso possibile quello che noi stiamo facendo. C'è ancora tanto da fare perché c'è ancora tanto bisogno. Lì si partorisce ancora in casa, lì la sanità costa. Vogliamo creare un secondo punto nascite. C'è già lo stabile. Dobbiamo completarlo con le attrezzature necessarie per consentire a tanti bambini di vedere la luce della vita. Abbiamo organizzato per questo un concerto per raccogliere i fondi necessari. Si terrà sabato 9 novembre alle 20.45 alla Chiesa Vottiva di Treviso. Gratuitamente si esibiranno il Coro Stella Alpina di Treviso, il Coro Ana di Oderzo e con la sua fisarmonica e la sua splendida voce Francesca Gallo. Vi aspettiamo sabato 9 novembre alle 20.45 alla Chiesa Vottiva di Treviso.